L'ottava visita a Kiev dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, la prima dalla rielezione alla Commissione europea. Ursula von der Leyen è arrivata nella capitale venerdì con l'obiettivo di aiutare il paese a riparare e ricollegare la rete elettrica danneggiata dalla guerra e a potenziare la capacità di riscaldamento in vista dell'inverno. Circa la metà delle infrastrutture energetiche ucraine è stata infatti distrutta durante la guerra con la Russia. A rotazione i blackout elettrici lasciano parti dell'est al buio per quattro ore alla volta, come se tutta la Lettonia, la Lituania e l'Estonia avessero perso l'elettricità, ha detto von der Leyen. La presidente ha reso omaggio ai caduti dell'Ucraina dal 2014, anno dell'annessione russa della Crimea e l'inizio della guerra nel Donbass. Sono veri e propri eroi che hanno compiuto l'estremo sacrificio per la sicurezza del nostro continente nel suo complesso, ha commentato von der Leyen su X.